ma si c'è un attimo da aspettare ma è normale scusa la gelateria più buona del paese e c'è la fila ah io vengo qua vengo sempre qua anche se da aspettare mi interessa perché qua mi piace la piazza c'è la chiesa il bar davanti alla chiesa il traffico lo smog i bambini che urlano da fastidio è il surrogato perfetto di una piccola città anche se è solo un paesino di merda che vengo qua e ho il mio gusto del gelato preferito anche prendo sempre quello per antonomasia proprio cioè per antonomasia proprio il nome del gelato per gusto ci sia una ricetta tipica che ha portato qua il cuoco il sief gelataio dal pirigiri girindiri birista è una roba un po puffo è un po marmorizzato che si allapa nel palato ti si attacca sotto i denti perfetto però se non sei mai venuto dovresti assaggiare l'altro gusto che è la piritera piritera mai sentito ha un gusto eccezionale però non lo dà mica sempre cioè non ce l'ha mica sempre non lo dà mica tutti perché devi entrare essere un po se devi entrare un po cioè se tu entri un po non te lo dà capito entri dentro guarda e dici ma che gusto c'è non lo so quello lì cos'è non c'è è finito ma la vaschetta è piena niente avanti prossimo non te lo danno sono un po un po permalosi eh ti devi entrare e dire piritera e la barista la barista ti fa coppa la vecchia tu fai zan zan due palline se vuoi una pallina zan costa un po di più ma vale la pena eh allora qua avanti la fila o no eh l'italia è sempre così va sempre aspettare